Lana stava sperimentando lo stato molto reale di paura di una tabula rasa, anche se non era né una scrittrice né una giornalista. Domani avrebbe iniziato una nuova vita e un nuovo lavoro con alloggio. Il datore di lavoro era un uomo d'affari ricco e potente che evidentemente non conosceva i conti del suo capitale. Senza ulteriori indugi, le fece subito le condizioni al telefono. Ho bisogno di un'infermiera laureata in psicoterapia che stia vicino a mia figlia 24 ore al giorno. Ho una confortevole casa di campagna con ottime condizioni di vita. Avrai a disposizione tutti i comfort. Ma non avrà nemmeno un giorno di riposo per i tre mesi di prova. Un generoso stipendio la compenserà di questo temporaneo inconveniente. E l'uomo che si faceva chiamare Mr. Tyler le indicò un compenso così alto da far tremare le gambe a Lana. Un mese di stipendio sarebbe stato l'equivalente dei suoi guadagni all'ospedale per un anno, con tutti i bonus e le indennità accessorie. Si accordarono sul fatto che avrebbe preso servizio in tre giorni, durante i quali avrebbe raccolto tutti gli effetti personali di cui aveva bisogno e avrebbe scelto le attrezzature mediche adatte alle sedute dei suoi pazienti. Le sarà poi consentito di stilare un elenco di tutto ciò che potrebbe essere necessario per la sua attività. L'auto verrà a prenderla all'ingresso alle 8 del mattino in punto. Il nome dell'autista è Denis. Mi mandi il suo indirizzo di casa a questo numero. Il signor Tyler pronunciò le parole in modo netto e chiaro. Lana pensò che ogni minuto di quell'uomo doveva valere oro e argento. Troppo affaristico. Ma le piaceva persino. Non aveva rispetto per la pigrizia, giudicava le persone dalle loro azioni. Nei suoi 26 anni sapeva bene che il tempo mette ogni cosa al suo posto e imprime il suo marchio sui personaggi. Chi vale cosa? Eccola qui, la signorina Lana, psicoterapeuta con un diploma rosso, la bellezza e l'orgoglio del reparto, la speranza del reparto. Al liceo, tutte le fidanzate dai caratteri leggeri andavano in discoteca e nei bar, mentre Lana studiava. Un diploma di scuola superiore l'avrebbe aiutata negli studi. Nella famiglia di Michael, l'idraulico, e di sua moglie, che lavorava in una panetteria come commessa, non c'erano soldi per un'istruzione seria per la figlia. No, no i suoi genitori non erano degli emarginati. Suo padre beveva solo nei giorni di festa e non si lamentava di questa cattiva abitudine. E non festeggiava ogni stipendio con i suoi colleghi maschi. Proveniva da un lontano villaggio abbandonato e si era ritrovato in città, quando gli imprenditori avevano acquistato tutta l'agricoltura della sua piccola patria, una sorta di holding con stabilimenti di lavorazione del latte e della carne di nuovo formato e dalle linee tecnologiche più innovative. Michael fu chiamato a lavorare lì, ma non sopportava che i nuovi proprietari avessero quasi sradicato il poggio in periferia dove erano stati sepolti i genitori suoi e di sua moglie. Il villaggio era stato raso al suolo, ridotto in cenere, una rovina di un monumento archeologico alla loro vita precedente. Dentro di sé sapeva che era così che doveva andare. La popolazione del loro villaggio stava finalmente bevendo fino alla morte. Non c'era lavoro. Tutti se ne andavano in massa in città. Erano gli unici a tenere i loro dieci acri di terra. Ma poi anche loro si arresero. Lana aveva 14 anni all'epoca. Fu così che divenne una ragazza di città. Con il ricavato della vendita del terreno e della casa, comprarono un bilocale in città. L'edificio di cinque piani in mattoni rossi era robusto e sarebbe durato a lungo. Michael fu accolto in fabbrica a braccia aperte. La paga non era granché, ma la famiglia riusciva a sbarcare il lunario. Ludmilla fece subito amicizia con le donne vicine. Le dissero che c'era posto in panetteria. La vecchia commessa si era appena presa un meritato riposo. Lizza fu ben accolta dalle lavoratrici, non si offese. La felicità finì in una notte. Michael venne a prendere la moglie dal panificio con la vecchia auto, e il maldestro furgone del pane nel cortile si girò maldestramente, travolgendo l'auto, senza nemmeno accorgersi subito dell'accaduto. Il destino Il conducente e il passeggero morirono sul colpo. La vita urbana di Lana iniziò da orfana. Lana non vedeva l'ora di andare a scuola. Le era sempre piaciuto imparare, leggere libri sulle relazioni umane. Nell'orfanotrofio in cui si è recata dopo la tragedia, Lana ha deciso di concentrarsi sugli studi per non dover pensare e ricordare i suoi familiari scomparsi prematuramente. Sei mesi dopo fu presa in affidamento dai genitori adottivi, con i quali però non si instaurò mai un rapporto caldo e cordiale. Naturalmente si trasferì con loro in due stanze di un appartamento comune. Non un orfanotrofio, Dopo tutto, dove tutti sognavano una famiglia e dei genitori già in giovane età. Ma Lana sognava piuttosto di crescere e di vivere per conto suo. Una ragazzina ingenua e suscettibile. Lana cercava di valutare mentalmente il comportamento delle persone e di indovinare chi e come si sarebbe comportato, considerando il loro temperamento e il loro carattere. Una sorta di psicologa casalinga. Le piaceva pensare che una persona potesse essere spezzata, che la sua linea di condotta potesse essere cambiata, che potesse essere persuasa. In seconda liceo, Lana spariva nella biblioteca scientifica, dove leggeva Freud, Jung e altri. I suoi compagni di classe non conoscevano questi nomi. Lana soffriva per la scuola con la sua medaglia d'oro, seduta sui libri di testo giorno e notte. I suoi meriti non comprendevano regali e omaggi agli insegnanti. Non c'era nessuno da pagare. L'allieva di talento riceveva voti alti, con sincerità e generosità. I suoi coetanei non inseguivano la ragazza pazza. Avevano rinunciato da tempo alle sue stranezze, anche se c'erano buoni motivi per prestarle maggiore attenzione. Lana era di una bellezza sconvolgente, dotata di quella magia. Femminile per cui gli uomini si trasformano in schiavi ammiratori quando vedono un esemplare così raro di perfezione esteriore. I capelli del colore del grano maturo le cadevano a onde lungo la schiena dritta. Gli occhi verdi con gli occhiali scuri invitavano ad annegare nelle loro profondità, le forme rigogliose davano vita a un'aura di sensualità, i polsi aggraziati accennavano a una raffinatezza aristocratica. La natura non si è adagiata sul suo aspetto esteriore. Solo Lana sembrava non accorgersi di tutto questo. Si ostinava a studiare e a ignorare gli sguardi languidi del sesso forte di ogni età. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, l'orfano e il medagliere dell'Università di Medicina si dispiacquero per lei. Una vita drammatica per una ragazza. Poteva fare un'eccezione e cercare un posto con un budget limitato. Superò l'esame di ammissione a pieni voti, senza tutor né investimenti finanziari. È tornata nel suo appartamento, che le era stato lasciato dopo la morte dei genitori. Proprietà privata, non si poteva fare o togliere nulla. Si vestì in modo poco alla moda, naturalmente modesto, attenendosi ai rigidi canoni classici che mettevano un po' in ombra il suo fascino naturale. Non si accorgeva affatto degli uomini intorno a lei. Ero così affascinato dalla psicologia. Ma un giorno fu agganciata da un esperto Don Giovanni. John era anche bello, ironico, imprevedibile. È questo che ha affascinato Lana. Si innamorò di brutto. Rispose con entusiasmo alla sua offerta di fermarsi a bere un bicchiere di vino, ben sapendo cosa sarebbe seguito. Ma l'anima di quel ragazzo era marcia. Lana era stata messa a letto per scommessa con un liceale che faceva la corte a una ragazza, ma era stato rifiutato. Un compagno di studi gli aveva detto all'epoca, Figliolo, non sederti sulla sedia a rotelle. Figliolo, non stare seduto sulla scatola. Metterò questa ragazza sulla schiena senza rumore e senza polvere. Lui sorrise in modo lascivo. E poi seguirai il sentiero ben battuto. Non insegnare allo studioso. Rispose irritato il figlio d'oro di un padre importante. Se me lo procuri, ti darò 5.000 dollari. Così John fece del suo meglio. Lana capì l'inghippo la volta successiva che si incontrarono dopo la loro notte selvaggia. Il suo sexy spasimante cominciava ad assomigliare a un cubetto di ghiaccio. Non svenne. Pensò che la sua infatuazione per John fosse dovuta agli ormoni. Solo che non aveva ottenuto il suo compenso per quel figo presuntuoso. Lana aveva tratto conclusioni di vasta portata per se stessa e ora non avrebbe permesso a un uomo di avvicinarsi a lei nel raggio di un miglio. Un caffè e una torta al bar più vicino tra una lezione e l'altra era facile. Andare alla prima di un film in gruppo? Perché no? Ho stroncato alla radice tutti gli altri tentativi di Avance nei suoi confronti, che assomigliavano ad Avance. C'è un sacco di gente in giro. Solo che non speravano in nulla. Tutti hanno ricevuto un rifiuto totale. I problemi della giovane dottoressa non finirono lì, dopo aver completato il corso teorico. Il posto nella specializzazione era ben meritato. In una prestigiosa clinica di psicoterapia, la dottoressa accoglieva avidamente ogni parola del suo nuovo idolo, il direttore del reparto di riabilitazione. Dopo un grave disturbo cognitivo, le ha insegnato molto. Si occupava di pazienti difficili. Poi l'ha aiutata con un rinvio a un altro posto prestigioso. E lì le molestie da parte della comunità maschile continuarono. La prima rondine, o meglio un'aquila insistente, fu uno dei medici di peso professionale della clinica. Ha immediatamente convocato la giovane specialista nel suo studio. Dobbiamo cenare con lei stasera per discutere le prospettive del suo lavoro nel nostro istituto. Mi avvisi a casa che non verrà a passare la notte. Così, senza offesa, le disse direttamente in fronte che la sua carriera sarebbe passata solo attraverso il suo letto. Lana rifiutò l'invito senza rimpianti, e ne. Pagò presto il prezzo. Si scoprì che prima del suo arrivo in questo stabilimento con sedativi sotto stretto controllo, tutto era chiaro. Quando è arrivata, le costose pillole hanno iniziato a sparire a pacchetti. Non abbiamo scoperto se fosse coinvolta o meno nei furti. Le hanno subito mostrato la porta e l'hanno minacciata di avviare un procedimento e di inserirla nella lista nera della professione. L'incidente successivo avvenne in una stazione di ambulanze specializzate dove aveva accettato un lavoro. Le squadre avevano un obiettivo ristretto, portare le persone fuori dall'alcol, gestire i comportamenti aggressivi che portavano alle risse, ferire i propri cari in uno stato di temporanea afflizione. I loro pazienti erano persone al limite, in bilico tra competente e incompetente, che vivevano tra episodi psicotici e remissione. Perché non venivano isolati dalla società? C'erano molte ragioni per farlo. Da qualche parte i parenti li riscattavano, da qualche parte riuscivano a tirarsi fuori dal sospetto di pazzia con l'aiuto di denaro e conoscenze. Lana non aveva mai saputo che nella sua città esistessero servizi medici di questo tipo. Era stata portata qui dalla stessa chiamata del suo insegnante che le aveva dato un patrocinio durante la sua specializzazione. Le uscite verso gli inadeguati, come li chiamava la sua equip, per lei terminavano dopo un mese. Quella volta era nella stessa equip del capo dell'ufficio. Anche lui a volte partecipava alle incursioni psicologiche, dicendo che non andava al circo da molto tempo e che voleva divertirsi un po'. Alana non piaceva il suo cinismo. Ma non c'era scelta. Dopo un turno abbastanza tranquillo, il suo capo si offrì di darle un passaggio a casa. L'istituto si trovava fuori città. Il primo autobus era ancora a un'ora di distanza. Tutti erano stanchi dopo una notte insonne. La giovane donna accettò. Ma il capo non andò in città, la portò nel bosco più vicino. Bolli. Non mi piace fare le cerimonie. Le soffiò in faccia con l'alito, non aveva paura di nulla, quando già in macchina beve metà della fiaschetta di vetro piatto del cognac. Lana voleva lasciare subito l'auto, ma lui si mise a ridere. Ho mezza città per ottenere un certificato di sanità mentale nei casi appropriati. Non ho paura né delle autorità né della polizia stradale. In seguito non riuscì a spiegarsi come avesse trovato la forza di dargli uno schiaffo in faccia. La testa dell'uomo sobbalzò all'indietro. Guardò la collega con sorpresa. Era riluttante, vero? Vai avanti, allora, pesciolino. Ti manderemo da qui. La città dista 11 chilometri. Mentre siete a piedi, fatevi il cervello al freddo. Nella mia squadra non c'è posto per chi non è attraente. Lo chieda a una qualsiasi delle nostre impiegate. Ora vattene. Lana non chiese nulla a nessuno. Il turno successivo scrisse la lettera di dimissioni e la cosa finì lì. Di nuovo niente pratica, di nuovo niente lavoro. Rimase a casa per un mese e mezzo. Nessuna clinica la prese, nemmeno per un posto da infermiera. Le voci sulla sua inaffidabilità riempirono il mondo medico. E come interpretarli, ognuno lo decide da sé. La psicoterapeuta della signorina Lana, Advanced, conosceva bene il fenomeno della vendetta. Ma la donna non aveva mai immaginato che lei stessa ne sarebbe stata vittima. Non sapeva ancora come la proprietaria di una vivida bellezza femminile dovesse erigere correttamente delle barriere contro le abominevoli molestie che violavano maleducatamente il suo spazio personale. Era una cosa su cui riflettere bene per il futuro. Una telefonata del signor Tyler, un giorno fa, ha interrotto una lunga serie di contrattempi. Non si sarebbe limitata ad accettare il lavoro, ma ci si sarebbe infilata dentro, se fosse stato necessario. Perché era così spaventata ed eccitata allo stesso tempo? Non riusciva a spiegarselo da sola. Cosa mi aspettava il giorno dopo? Canticchiò con voce bassa. Poi Raisa ad alta voce per tenere a bada le brutte paure. Il posto vacante era ambiguo. Infermiera di una ragazza affetta da una malattia mortale del sangue e dalla sindrome di Berger. La famigerata sindrome era sconosciuta ai comuni mortali, lontana dai termini medici. In poche parole, il suo effetto sui pazienti potrebbe essere descritto come un'incapacità, un'impossibilità di comunicare con il mondo esterno. Esistono in un piccolo mondo tutto loro, in cui gli estranei sono raramente ammessi. Nella società queste persone sono chiamate autistiche. Inoltre, il futuro pupillo di lana era affetto da una grave malattia del sangue di natura immunitaria. All'interno della sfortunata vittima, alcune cellule continuavano a dimostrare agli altri di essere al comando, distruggendo i tessuti del corpo che erano sul piede di guerra. Le condizioni della paziente erano ora valutate come moderate. Una remissione prolungata dava al padre la possibilità di stare vicino alla sua amata ragazza per un periodo più lungo. Ma per quanto tempo la malattia insidiosa si sarebbe comportata in modo decente? Con ogni probabilità, solo l'onnipotente in cello lo sapeva. I medici si limitarono a stringere le mani in segno di solidarietà. Signor Tyler, stiamo facendo tutto il possibile, ma solo un miracolo può aiutare la ragazza. Viviamo nel mondo reale con le sue brutali leggi della natura, che governano tutta la vita sul pianeta. Ho già sentito tutto questo mille volte. Rispose il padre inconsolabile. Qual è il suo consiglio? Come posso ravvivare la sua vita se non risponde a nulla? Non risponde, è inattiva, silenziosa e muta. Non l'ho mai vista capace di sorridere. 16 anni di costante oscurità. Può farti impazzire. Il famoso specialista in disturbi dello spettro autistico seduto sulla sedia di fronte al signor Tyler pensò per qualche secondo e poi disse. Ho un medico che non ha molto successo professionale e non si è stabilito in nessuna struttura medica da molto tempo. E non riesco a trovare una ragione per questi continui fallimenti. Era una delle studentesse più brillanti del mio corso, con grandi promesse e un ardente desiderio di fare del bene alle persone svantaggiate. Seguiva tutte le tecniche e le innovazioni nel nostro campo. Nelle cliniche mi Sono sgonfiato come un palloncino. Purtroppo non posso patrocinare tutti i miei brillanti studenti. Ho fatto un paio di patronati per lei, ma non hanno funzionato. Recentemente, ci siamo incontrati per caso in una pasticceria dove stavo comprando una torta per il compleanno di mia moglie. Ci siamo scambiati i contatti nel caso in cui avessi avuto altre informazioni su posti vacanti negli ospedali da noi patrocinati. Invita questa ragazza. Ha fatto la sua specializzazione nel mio ospedale. Posso garantire per lei quasi quanto per me stesso. Il signor Tyler valutò i pro e i contro e decise che non aveva nulla da perdere. I precedenti assistenti non erano in grado di gestire Kira. Quindi forse questa giovane ragazza poteva fare qualcosa? Nella sua grande casa c'erano parecchi residenti. La sua cuoca preferita, Emily, che era con lui da 30 anni. Suo figlio Victor, il giardiniere, che la aiutava nelle faccende domestiche, e Gabriella, la cameriera. C'è posto anche per la sconosciuta signorina Lana. Ci sono quattro camere per gli ospiti vuote. Dovremmo chiamare Gabi. È così che ha chiamato la cameriera o come l'ha chiamata lui. Date l'ordine appropriato. Il ghiaccio dell'esperimento che avrebbe stravolto le loro vite si era rotto. Lana aveva deciso di iniziare un cambiamento radicale nella sua vita a partire dal suo aspetto. Doveva creare un nuovo look lavorativo che nascondesse il più possibile la sua bellezza naturale. Non voleva che questo dono celeste, che considerava superfluo e immeritato, interferisse con la sua capacità di lavorare di nuovo in pace. Il guardaroba non troppo vasto della giovane donna comprendeva pantaloni e gonne larghe di colore scuro, maglie e camicette. Scarpe e stivali a vita bassa. Un paio di divertenti pigiami a forma di coniglietto sul prato. Lingerì. Il pizzo di seta preferito da Lana. Beh, nessuno lo vedrà sotto i vestiti larghi. I capelli erano un po' in disordine. Non volevano abbinarsi alle trecce, che erano destinate a formare uno. Scignò il riccio sulla testa. Completò il look con occhiali con lenti neutre. Li aveva comprati per una festa in maschera all'università molto tempo fa. Ora le tornavano utili. Soddisfatta dell'adattamento, Lana ripiegò le munizioni in una grande borsa e andò felicemente a prendere i suoi libri specialistici. Mentre il suo paziente riposava, avrebbe studiato tutto ciò che riguardava l'autismo in modo più approfondito. Tutto richiedeva un approccio sobrio e ragionevole. Alle otto del mattino, come aveva promesso il signor Tyler, un tipo sorridente suonò alla porta. Salve, sono Denis. Sono Denis. Lasciatemi portare le vostre cose in macchina. Il capo ti ha chiesto di controllare tutto accuratamente. Non dimentichi che non potrà uscire prima di tre mesi. Lana si sentì così calda e rilassata dalle sue parole che pensò subito, lavoreremo insieme. Farò tutto ciò che è in mio potere per farlo funzionare. Il viaggio verso la nuova casa durò poco più di tre ore, senza ingorghi. La stazione ferroviaria era a due chilometri di distanza, come se Denis avesse letto la sua domanda muta. Ci sono sei macchine in garage, due autisti. Tutto ciò che deve essere comprato e portato a casa, lo affiderà a me. Lana si guardò curiosamente intorno alla maestosa, ma molto graziosa casa di un delicato color sabbia, con elementi decorativi originali marroni sulla facciata, balconi, una grande terrazza. L'edificio era circondato da un parco. In lontananza c'era una grande piscina all'aperto, ora coperta da un qualche tipo di materiale protettivo. I vialetti lisci erano rivestiti di piastrelle ordinate e pulite. Uno dei viali era stato rinnovato con betulle, rose, avvolte nella pellicola. Sull'altro lato della casa ci sono alcuni annessi che assomigliano a piccole serre. Arbusti domestici ovunque, verdi anche in questo tardo autunno. Una specie di tavolo esotico con sottili foglie color smeraldo. Un'intera guardia fiancheggiava il portico. Benvenuti nella nostra casa Queste sono le parole Di una donna alta e formosa con una zazzera di capelli rosso vivo Mi chiamo signora Emily Zia Emily per la mia gente Sono la governante Come Freckenbock per Carlson E sono anche la cuoca La donna fece un grande sorriso gentile e tese a Lana un palmo caldo e morbido. Il ragazzo con il rastrello e mio figlio Victor, è il tuttofare. Ma il suo preferito è il giardino. È il suo faudo, continuò Zia Emily Abbiamo già incontrato Dennis L'altro autista si chiama Samson Rimane la nostra cameriera Gabriella, la cui madre è di origine spagnola Due grandi occhi fissarono Lana con aria interrogativa La signora con gli abiti di servizio troppo appariscenti Wow Era ora, pensò Lana Quando un uomo anziano e alto, dall'aspetto nobile, apparve sulla soglia Il tipo di uomo a cui lei si sarebbe rivolta con le parole vostra maestà O almeno vostra signoria o vostra signoria Occhi grigi e penetranti, capelli corti e grigi, portamento regale, spalle larghe, un timbro di voce piacevole Signorina Lana, sono il signor Tyler Gabriella La accompagnerà nella sua stanza e le farà visitare la casa Si metta comoda Il programma dei pasti le sarà comunicato da Emily L'aspetto nel mio ufficio tra due ore per una chiacchierata Se mi soddisfa, le presenterò mia figlia Kira Si girò e scomparve in casa Victor prese il bagaglio di Lana Gabriela fece un gesto invitante Solo la signora Emily le sorrise in modo rassicurante La cena è alle due in punto, il padrone di casa non tollera ritardi a tavola In quell'occasione avremo modo di conoscerci meglio Per ora hai cose più importanti da fare senza di me Lana via che Slavovna seguì Gabriela per tutta la casa e ascoltò a malapena i pacifici borbottii della cameriera Fu colpita dalla sua stanza con bagno e toilette separati Con enormi finestre che davano sul giardino e un'atmosfera graziosa, elegante e allo stesso tempo familiare Non sapeva ancora come sarebbe stata la sua vita nella casa Ma già non vedeva l'ora di Farne parte e di rendersi utile Il rapporto di Lana con i suoi genitori adottivi era normale Ma sia che fossero le tendenze moderne a influenzarli Sia che i suoi interessi fossero molto diversi da quelli della vecchia generazione Si vedevano raramente La comunicazione si riduceva a telefonate di routine come Figlia, come stai, stai bene? Anche noi stiamo bene Il dialogo di solito finiva lì Oppure si riduceva a una discussione su un altro talk show in tv o a pettegolezzi sui vicini in cortie Era soffocante in un contesto così noioso Ma dire a suo padre e a sua madre quanto fosse difficile e solitario in questo mondo di persone Era fuori discussione Era fuori discussione È una persona adulta e indipendente Non aveva quell'intimità speciale con i suoi tutori Quando uno è per tutti e tutti sono per uno La vecchia generazione non capiva la sua scelta professionale Ma il trasferimento in un appartamento, l'uscire da sola, sono stati approvati La figlia adottiva smise di inseguirli per perdere tempo vicino alla televisione Abbracciando semi di girasole senza alcun tentativo di sviluppare il suo intelletto Destini diversi su strade diverse si susseguono In questa grande e bella dimora, tuttavia, Lana percepì una sorta di unità tra i membri della famiglia Non era nemmeno arrivata da mezz'ora e già voleva rimanere a lungo Stanca del lungo monologo, Gabriella la condusse alla fine del giro dell'edificio e del giardino fino alla porta dell'ufficio del signor Tyler, dicendole un'ultima parola Diamoci del tu Non mi piacciono le cerimonie Passiamo tutto il giorno a strofinarci l'uno con l'altro Non entrare dal padrone Prima bussa Non è molto incline alla familiarità Lana Nui, accettando il suo nome di battesimo e ringraziandola per la mancia Gabriela se ne andò, ondeggiando dolcemente i fianchi E il terapeuta pensò Non per niente la ninfa si è impegnata così tanto In casa deve esserci un oggetto delle sue attenzioni per il quale è Costantemente allerta Potrebbe essere il padrone È un bene che abbia curato in anticipo il mio umile aspetto Non darò nell'occhio al pubblico domestico come fa Gabriela di proposito Loro possono occuparsene da soli e io ho altri compiti da svolgere Lana bussò con decisione alla porta dello studio ed entrò dopo un grido del suo padrone Sì, sì, entrate, sono nel mio ufficio Lo studio, pur essendo un praticante inesperto, ma un teorico molto forte Era a prima vista piacevole, mobili in legno nobile Infiniti scaffali di libri, eleganti statuette, superbi paesaggi in eleganti cornici alle pareti Scrivania con grande computer da tavolo Un centro musicale con altoparlanti nell'angolo, un mobile cd separato Non conosceva ancora il signor Tyler, ma questo ufficio sembrava gridare forte Il mio proprietario non è uno stupido Colto e istruito, intelligente e di successo Il signor Tyler stesso la invitò a sedersi sulla poltrona imbottita del tavolino, senza preoccuparsi di dirle il suo posto subordinato in questa stanza, facendola sedere alla scrivania di fronte a sé Suonando il campanello, chiamò Gabriella Ci prepari un paio di tazze di caffè, per favore O preferisci un succo di frutta o un tè? Lana accettò con gratitudine il caffè Stamattina era così nervosa che non aveva nemmeno fatto colazione a casa E ora temeva che il suo stomaco traditore la tradisse, brontolando forte nel momento più inopportuno Era fortunata Gabriella aveva portato un vaso di biscotti al burro di arachidi, una scatola di cioccolatini e una caraffa di panna, insieme al caffè Lana si avventò sulle lecornie come un piccolo lupo affamato, ma non vide alcun giudizio negli occhi del signor Tyler Amava la sincerità e la spontaneità delle persone Sorrise persino Non ti stiamo accogliendo bene È il tuo primo giorno di lavoro e non ti viene nemmeno offerto un tè dalla strada Lana cercò di dire con la bocca piena, poi sorrise impotente In risposta, si pulì le briciole Dalle labbra e masticò con cura il resto del biscotto Dovete scusarmi I miei nervi stavano avendola meglio su di me Avevo voglia di dolci Grazie per il caffè Torniamo agli affari Il signor Tyler non ammetterebbe mai a questa giovane donna che gli piace fare le sue ispezioni alla vecchia maniera È un approccio che ha preso in prestito da suo padre, un semplice agricoltore che ha passato la sua vita a coltivare la terra e a far crescere i raccolti Ora suo padre, con suo grande rammarico, non era più in grado di lavorare Cinque anni fa Tyler aveva acquistato il cottage accanto, dove ora vivevano i suoi genitori E la vecchia generazione si era rifiutata di trasferirsi nella villa di Tyler, sostenendo che la terra del loro giardino era più vicina e più interessante per loro dei paesaggi simili a parchi della tenuta del figlio Con una governante bonaria dalla loro parte, il figlio smise di cercare di convincerli a vivere insieme Ora andavano solo a trovarsi E durante le vacanze di famiglia si riunivano Ma si ricordò del precetto del padre, secondo il quale bisognava prima dare da mangiare a un lavoratore assunto in modo nutriente, vedere come affrontava il pasto e poi trarre le conclusioni Un uomo mangia con sincerità, senza falsi imbarazzi Sarà bravo Ma dice di non avere fame, prende solo qualche briciola dalla tavola per decenza, è pigro e lavorerà Qualsiasi persona qualificata morirebbe dalle risate di fronte a questa metodologia di reclutamento Ma l'esperienza del signor Tyler lo ha convinto da tempo Il metodo funziona senza problemi Passando a Gabriela un vassoio di tazze vuote, il capo Lana iniziò la conversazione Lei mi è stata raccomandata dal professore che a volte consulta mia figlia Prima che lei prenda servizio, vorrei farle una breve presentazione Non come persona che conosco, ma come medico e psicoterapeuta Kira, mia moglie e io stiamo per avere un bambino in ritardo Mia moglie è morta una settimana dopo la sua Nascita Il mio cuore ha ceduto Ho un figlio maggiore, Nigel Vive e lavora in Europa, nella nostra filiale di Praga Ogni tanto viene qui Nigel è nato quando io e mia moglie eravamo molto giovani Ora ha 33 anni Io e mia moglie, un matrimonio studentesco di grande amore reciproco, ci siamo rivelati molto forti Abbiamo vissuto anima per anima C'era solo una cosa che turbava mia moglie Dopo la nascita del bambino, seguirono una serie di aborti spontanei Mia moglie sognava un secondo figlio, una femmina L'aveva persino chiamata come sua madre, alla quale era eternamente legata All'età di 44 anni, mia moglie rimase nuovamente incinta e fu infinitamente felice Ma i medici si sono stretti la testa Anche un esame di routine, a cui si sottopongono tutte le madri in attesa, rivelò una grave aritmia Il suo cuore non era in grado di sopportare il doppio carico I vasi sanguigni cominciavano a non funzionare correttamente I medici temevano che il bambino non ricevesse abbastanza nutrimento Mia moglie, che era in ospedale per la maggior parte del tempo, mi guardava implorante e mi supplicava Non mi permetta di interrompere la gravidanza Starò attenta, seguirò tutte le loro prescrizioni Devo portare in grembo questo bambino Il suo desiderio si è intensificato dopo che l'ecografia ha mostrato che portava in grembo una bambina Mia moglie divenne infine ossessionata dall'idea che il cielo avesse finalmente pietà di noi e ci stesse dando quest'ultima possibilità Mia moglie ha sopportato nove mesi di attesa straziante Una serie infinita di procedure e iniezioni e un intervento chirurgico sotto forma di taglio cesareo Il verdetto fu un duro colpo per lei Si sospettò subito che la bambina avesse qualche anomalia Un esame dettagliato ha dimostrato che aveva ereditato una malattia genetica del sangue estremamente rara Si trasmette attraverso la linea femminile Le persone che ne sono affette non vivono a lungo Al massimo 10 o 15 anni La notizia ha sconvolto la moglie Gli attacchi di aritmia cominciarono a ripetersi con una persistenza invidiabile Non tornò più a casa dall'ospedale Kira fu dimessa dopo due mesi di scrupolosa osservazione All'inizio ero disperato, risentito con il bambino per avermi portato via la donna che amavo Mi aveva lasciato solo al mondo Nigel aveva 17 anni all'epoca e ancora mi stupisco che fosse già allora saggio e maturo Mi convinceva che tutto era destinato ad accadere, che anche lui aveva perso la madre Ma era la sua vita, il suo sogno e la sua scelta Non ci crederete, ma è stato lui a prendersi cura della bambina insieme alla tata, imparando presto a cambiarle i pannolini e a nutrirla con una formula speciale Il secondo colpo arrivò quando i medici notarono subito che Kira era diversa Non come gli altri bambini La sua malattia genetica non si era ancora manifestata Ma ci faceva impazzire il fatto che non reagisse alla nostra presenza a sei mesi, a un anno o più Immaginate il quadro, il bambino mangia, dorme, ma non reagisce a noi, ai tanti giocattoli colorati che lo circondano Il suo viso è come una maschera congelata Nessuna espressione facciale, nessun gesto Quando è seduto o sdraiato in questa posizione si blocca a volte per molto tempo La bambina è bella, addirittura graziosa Occhi grandi, riccioli di capelli biondi, braccia e gambe paffute Ma si comportava come una bambola, come una bambola artificiale Dopo qualche tempo le fu diagnosticata la sindrome di Berger o autismo I medici le assicurarono che questo tipo di disturbo dello spettro autistico prometteva bene Le funzioni del corpo si sarebbero sviluppate parzialmente, ma non completamente Portai Kira in Europa, dove i medici riuscirono a compiere quasi un miracolo Le hanno tolto i disturbi del sonno, hanno adattato le sue abitudini alimentari e le hanno insegnato a essere almeno un po' reattiva Sono tornata dalla Germania quasi felice Kira ha iniziato a riconoscere la sua famiglia Balbettava qualcosa in una lingua a noi sconosciuta A volte cercava di esprimere qualcosa attraverso i gesti Non aveva ancora imparato a sorridere Accendeva il rumore per strada e durante le passeggiate e le gite sul Mar Nero alzava i piedi quando io e Nigel cercavamo di farle il bagno Poco dopo mandai Nigel a studiare Nel Regno Unito e, come ricompensa per l'offesa, la mia attività crebbe e si rafforzò Portandomi sempre più reddito Ho costruito questa casa con mia moglie È stata sua l'idea di vivere lontano dalla frenesia della città L'uomo fece una pausa nella sua narrazione Era chiaro che la storia aveva risvegliato in lui vecchi ricordi Guardando l'orologio, divenne un por consapevole Mancano solo 15 minuti al pranzo Il resto lo imparerete man mano Io aggiungerò solo le cose più importanti Quando Kira entrò nella pubertà, il suo sviluppo fu, ovviamente, sempre in ritardo rispetto ai suoi coetanei Così fu circa due anni fa, al suo quattordicesimo compleanno I precedenti meriti della medicina cominciarono a svanire rapidamente Sembrava che la distruzione del tessuto cellulare da parte dei suoi stessi aggressori interni stesse causando l'assopimento della sua attività cerebrale Le poche decine di parole che aveva pronunciato in precedenza erano state dimenticate Era di nuovo indifferente a ciò che accadeva intorno a lei Camminare con piacere nell'aria, persino nuotare in piscina con l'aiuto di Victor La ragazza ha dimenticato tutte queste abilità Sempre più spesso non si lascia sollevare dal letto Ora si muove solo su una sedia a rotelle Non mangia quasi nulla e sta perdendo peso Capisco, signorina Lana, che lei non è un operatore miracoloso o un dio I medici hanno già previsto che a questa ragazza non resta più di un anno Il deterioramento del suo fragile corpo sta progredendo Per quanto mi riguarda, ho stabilito che il vostro compito sia quello di facilitare il suo passaggio all'altro mondo So che è impossibile, ma sono ancora che sorrida quando guarda il nostro parco, le persone a casa, il cielo e il sole Credo di volere troppo da te Lana era scioccata No, no, no Farà tutto il possibile, applicherà tutte le sue conoscenze Negli occhi di quell'uomo c'erano dolore e disperazione Parlava con tanto coraggio di sua figlia che presto avrebbe Lasciato questo mondo, da far gelare il sangue alla terapista in visita Alla faccia del recinto alto, della casa ricca, tra le cui mura la sfortuna ha vissuto a suo agio per tanti anni Incurante dei volti piacevoli delle persone che l'hanno costruita Il pranzo fu sontuoso La cucina della signora Emily era così buona che prima di rendersene conto Lana aveva mangiato tutto quello che le era stato offerto Aveva anche preso un'insalata extra, che era davvero speciale Quando chiese dove si trovava Kira Le risposero diverse persone contemporaneamente Kira è nella sua stanza a pranzare, disse il signor Tyler Io e te andremo a trovarla dopo pranzo Ho già preparato le sue polpette preferite e il suo purè di patate, aggiunse zia Emily E ho raccolto un mazzo di bacche di sorbo brillanti nel bosco dietro casa Victor intervenne nella conversazione Credo che Kira sia eccitata dal loro pungente profumo autunnale Solo Gabi, in una conversazione nello studio Una volta il padre di Kira chiamò la cameriera in questo modo E Lana immediatamente raccolse mentalmente il soprannome Era più breve, molto più semplice Mangiava concentrata, fissando il suo piatto Sembrava che la situazione di Kira non le interessasse affatto, se non in minima parte Dovremmo dare un'occhiata più da vicino a questo qui Lana decise Ha sistemato la mia stanza alla perfezione Nessuna lamentela Ma non c'è una sorta di insinuazione da parte sua sulla sua paziente? Quando si ha a che fare con un paziente autistico, ogni strumento è buono e le piccole cose possono essere globali In seguito, tutti i commensali furono nuovamente distratti dalle torte dolci e dalle composte Lana ripensò ai pensieri dolorosi È un bel posto quello che hanno qui, accogliente I servitori allo stesso tavolo del padrone stanno cenando Tutti pregano per la ragazza come possono Tutti cercano di rallegrare la sua vita Le sue riflessioni furono interrotte dalla voce del signor Tyler signorina Lana Anche lei è pronta a vedere il suo paziente? La ragazza rispose con entusiasmo che non vedeva l'ora E non stava affatto mentendo Nella stanza di Kira le tende erano tirate Era semibuie e in qualche modo avvilita, senza speranza La signorina Lana si affrettò a sottolineare che la situazione doveva cambiare Tutto aveva un senso Qui viveva una persona gravemente malata, ma non aveva senso sottolinearlo con le decorazioni La ragazza non reagì affatto al loro aspetto A questo punto la zia di Emily portò a Lana e alla sua paziente un vassoio con i suoi piatti preferiti La psicoterapeuta decise di non rimandare il lavoro Signor Tyler signora Emily, se vuole scusarmi, darò io stesso da mangiare a Kira e contemporaneamente faremo una chiacchierata Ci lasci un po' di privacy Kira, questa è la tua nuova dottoressa La signorina Lana Starà con te quasi ininterrottamente Non vi dispiace se vi lasciamo soli, vero? Anche in questo caso, nessuna reazione percepibile La ragazza iniziò obedientemente ad aprire la bocca alla vista del cibo e a ingoiarlo come una marionetta Ma Lana iniziò il suo monologo Non sono un medico, non sono un'infermiera per te, Kira Preferisco essere un'amica Sarò lì per te di mia spontanea volontà Anche se sono considerato un dipendente Le dirò la verità Resterei con te anche gratis Finora ho amato tutto della vostra meravigliosa casa Il posto stesso, le persone, voi Domani io e te metteremo sotto sopra la tua stanza Non credo che ti farà male alla salute Per una frazione di secondo Lana credette di aver visto qualcosa guizzare negli occhi della ragazza Un barlume di reazione, ma svanì molto rapidamente Oppure poteva trattarsi di un insidioso gioco di luci e ombre nella stanza La dottoressa Ander decise di pensarci più tardi nella sua stanza Nel frattempo, vestì la sua bambina con abiti caldi e la portò in carrozzina nel cortile per respirare l'aria forte dell'autunno dorato Da quel momento le giornate In casa si susseguirono secondo un copione ormai consolidato Al mattino, Lana e Kira facevano colazione insieme nella stanza della bambina Poi c'erano le inevitabili flebo e iniezioni per combattere le manifestazioni del malfunzionamento genetico L'obbligatoria passeggiata di due ore in giardino, dove Victor era sempre intento ad armeggiare amorevolmente con le piante Il pranzo nella sala grande, dove la signorina Lana si intratteneva con i coinquilini e poi dava da mangiare a Kira Un pisolino terapeutico per la paziente Una nuova somministrazione di farmaci tramite flebo per un paio d'ore alla volta La cena Questa volta in presenza del signor Tyler, che nei giorni feriali era interamente al lavoro La sera e nei fine settimana lavorava duramente a casa, nel suo ufficio Il paziente, stremato dalle interminabili terapie, cadeva in un sonno profondo già alle 10 di sera Lana, invece, studiava continuamente il lavoro dei suoi colleghi sull'autismo Non c'era alcun movimento in peggio e in meglio in termini di contatto più stretto con la paziente Le condizioni della ragazza rimanevano stabili Lana continuava a parlare con Kira di tutto, raccontandole la storia dei suoi libri di narrativa preferiti Leggendo le poesie, mostrando le riproduzioni di quadri da un grande album colorato O meglio, la parola a parlare è inappropriata in questo caso La dottoressa stava conducendo il suo eterno monologo e la bambina lo ascoltava con indifferenza L'altro giorno, la dottoressa, che aveva già cominciato a disperarsi un po' Aveva trovato in un articolo straniero che la comunicazione con gli animali può essere un buon aiuto per i pazienti per livellare le manifestazioni di astinenza nell'autismo Per qualche motivo, nella casa del signor Tyler non c'erano animali domestici Dopo una riunione generale di tutti i residenti della villa, si decise di prendere un cucciolo di cane di grossa taglia Per qualche motivo, quello che attirò maggiormente L'attenzione fu un cucciolo di Terranova canadese Due giorni dopo Dennis portò il tesoro peloso e nero con gli occhi dal canile che allevava proprio questa razza Il piccolo era irresistibile È opinione comune che i nostri fratellini non abbiano una mente Cosa ha detto allora a Timmy che era destinato a Kira? Trovandosi nella sua stanza degli ospiti, dove si trovava da tempo per una commissione di lana con un arcobaleno di elementi luminosi, Timmy si diresse subito verso la ragazza e le ficcò il naso umido nel palmo della mano Il dottore era sicuro, una reazione balenò negli occhi di Kira Una reazione fulminea Ma lei non esitò Luminosa e positiva Per la prima volta, lana sentì che erano sulla strada giusta A Capodanno e a Natale tutti in casa aspettavano Nigel da Praga La signorina lana non conosceva il giovane Ricordava solo le parole di zia Emily È un ragazzo d'oro Il suo cuore cambia quando arriva il fratello maggiore Non riesce a sorridere, ma è come se il suo viso si illuminasse Gabriella, che era presente quando hanno parlato, ha aggiunto E che bell'uomo è Nigel Rispettabile, rispettabile, saggio, ma sembra anche il tipico eroe di Hollywood Due personaggi in uno È così intrigante La signora Emily rispose immediatamente alle sue parole Gabriella, perché non vai a cambiare le lenzuola a Kira mentre lei e lana vanno a fare una passeggiata? Non hai altro che pensieri del cavolo in testa Non sei quel tipo di ragazza Gabi se ne andò, dimenando i fianchi come al solito, e la cuoca le obbedì e disse a lana La ragazza è fuori di sé quando il figlio del padrone torna dall'Europa Lei lo accenna e lui la guarda come se non fosse niente Aveva una fidanzata Lei lo ha tradito mentre lui guadagnava soldi nella Repubblica Ceca Si sono lasciati Anche se la signorina buona a nulla ci ha promesso di venire qui a volte, versando lacrime Si strappava i capelli per la disperazione di aver perso una festa ricca Niente L'aiutava Nigel non riusciva più a fidarsi di lei Non riusciva a perdonarle di aver frequentato un altro uomo nello stesso periodo Con un sospiro di dolore, la zia Emily suggerì improvvisamente di vieni in camera mia questa sera Prenderemo un tè Ti racconterò la storia di come il signor Tyler mi ha salvato dal male E perché da allora lo chiamo l'angelo della bontà Durante la passeggiata, Lana e Victor discussero sul tema dell'educazione di un nuovo domestico Un cane di razza non dovrebbe gironzolare in vano in giardino Una volta il giardiniere si era lasciato sfuggire che il cane era un suo sogno da tempo Tollerava le buffonate di Timmy e gli perdonava persino di aver urtato un cespuglio di rose avvolto nella plastica durante la fuga Lana pensò di nuovo che Kira, seduta sulla sedia a rotelle, avesse fatto qualche movimento verso il giardiniere Ma non aveva fretta di dirlo ad alta voce Guardò, guardò, guardò Ancora e ancora Poi vedremo Dopo cena, dopo essersi assicurata che Kira si fosse addormentata con grazia Chiuse la porta di casa e bussò alla porta accanto Entra, ti stavo aspettando Risuonò la voce della signora Emily dai capelli rossi Ti ho preparato del tè verde con Melissa e ti ho messo della marmellata e delle noci nella tazza Stiamo per banchettare Lana era già stata nella stanza della cuoca, ma ora poteva vedere la stanza in modo più dettagliato La stessa eleganza e familiarità, pur gestendo gli oggetti personali che le stanno a cuore Alla parete ci sono molte fotografie incorniciate Il signor Tyler e sua moglie ancora molto giovani Kira in diverse angolazioni Victor in giardino, ora vicino al gazebo, ora alla piscina Un bel giovane a cavallo È il nostro Nigel Un bel uomo Gabriela non stava mentendo Che Dio gli conceda la felicità personale È in affari, proprio come suo padre Era ora che avesse dei figli suoi E continua ad andare in quei paesi stranieri So che non è un monaco Ma tutte quelle ragazze non gli servono per il matrimonio Sarà un padre meraviglioso Adora le parti intime La signora Emily mangiò un'altra pallina di marmellata di uva spina e iniziò il suo racconto Dopo il liceo 35 anni fa mi sono formata come tecnologa della ristorazione Sognavo una carriera da chef che mi avrebbe fatto guadagnare le stelle Michelin per L'arte della cucina Non ha funzionato È stato a causa del mio, non lo nego, aspetto affascinante Un metro e 85, pienezza, capelli ramati, testa e movimento, nessun gusto nella scelta del guardaroba Certo, i cuochi non si scelgono in base all'abbigliamento, ma il personale di tutti i bar e ristoranti, dove ho cercato di ottenere un lavoro dopo la laurea, mi ha rifiutato con ogni pretesto plausibile In un ristorante prestigioso, solo la signora delle risorse umane è stata onesta I nostri commensali spesso invitano in sala lo chef, l'esecutore di un piatto, se gli piace Non potete essere il biglietto da visita del nostro locale Solo un posto nel buffet del circo le si addice Non ve lo dico con severità perché sono un cinico Non lo sono Mi piace essere onesto con le persone che assumo È meglio che chiudere un occhio e tenersi i soldi in tasca Eppure, un giorno, il mio zoppicare è stato un successo Mi hanno portato in un caffè privato chiamato Zarizza Tamara con autentica cucina georgiana Il proprietario era un georgiano piccolo e calvo con le dita adunche e i piedi storti Anche per me si è sfatato il mito che gli uomini caucasici siano sempre dotati di un'acuta bellezza orientale Capelli ricci, occhi neri, presuntuoso Questo acchiappatore ha detto senza storture Ho una moglie con una malattia femminile Non può dormire con me E io sono un uomo, devo salvare la mia fisiologia Lavorerai in cucina E verrai a trovarmi un paio di volte alla settimana Se ti comporterai bene, ti nominerò capo cuoco, forse addirittura chef All'inizio mi ha fatto rabbrividire Ho detto che ci avrei pensato E poi l'ho capito Ho trascorso sei anni all'istituto come studente part-time Prima di allora, due anni come aiuto cuoco alla mensa Avrò ventisei anni, né oggi né domani E sono una ragazza Non c'è fila per la mia anima rossa Nessuno mi ha mai guardata Lo sguardo di un uomo pieno di desiderio non mi ha mai fatto arrossire o impallidire Due giorni dopo mi Informò che avevo accettato tutte le condizioni La proprietaria delle Quinta Mara mi guardò furtivamente e mi invitò nella stanza sul retro Fu lì che imparai le basi dell'amore Tra casse di verdure, ortaggi e scatole di vodka Che poi ho spacciato per caccia in un decanter È un peccato, è un peccato Ma dai Una grande storia d'amore fisiologica durò onestamente tra me e il capo per un anno e mezzo Poi sono rimasta incinta Ha presa la notizia Il mio amante non l'ha presa bene e mi ha licenziato Continuava a rimproverarmi di non aver parlato Sua moglie non deve sapere nulla Ha tre figli grandi, se vedono con chi se la fa, lo deridono Mi ha pagato tre mesi di stipendio in anticipo e si è lavato le mani di suo padre Non gli ho detto subito che il bambino stava per nascere Ho continuato a tirarla per le lunghe, avevo il presentimento che la notizia non sarebbe stata positiva Con la mia generale grassezza, la pancia divenne visibile solo al sesto-settimo mese Poco prima del consueto congedo di maternità ufficiale mi sono ritrovata per strada Avevo finito i soldi per un appartamento in affitto due settimane prima della nascita di Victor L'unica famiglia che avevo era una zia in un villaggio lontano Non so nemmeno dire quanto si è imparentata con lei Non ho mai visto mio padre Mia madre ha bevuto fino alla morte quando avevo vent'anni All'inizio era una senza tetto, poi è scomparsa Ma non ho mai dubitato nemmeno per un secondo Il bambino doveva essere così Sono sola al mondo, ma mio figlio era irrequieto L'isolamento Acustico dell'edificio faceva schifo Gli altri ospiti hanno iniziato a lamentarsi perché li tenevamo svegli di notte Ci siamo trasferiti nel nulla Sono seduto lì con un mucchio di roba E c'erano autobus interurbani alla fermata Decisi di andare in campagna, in un posto lontano Forse potevo trovare una casa abbandonata, nel portafoglio avevo soldi per una settimana al massimo Quando una costosa jeep scura si fermò accanto alla fermata dell'autobus Non capì nemmeno subito cosa mi stesse chiedendo l'autista Mi alzai a sedere, piangendo Il signor Tyler, e questo era lui, all'epoca stava costruendo una casa da queste parti E cercava un negozio di specialità locali, che era stato recentemente retto sull'autostrada Gli diedi l'indirizzo, perché no? E non se ne andò subito Più tardi mi disse che i miei occhi erano come quelli di un cane bastonato E che c'era così tanta disperazione in essi che non riuscì a trattenersi Mi chiese Donna Cosa ci fai seduta al vento con un bambino? Posso darti un passaggio da qualche parte? Posso, anche se è il contrario Non so come sia successo, ma gli ho raccontato in breve tutti i miei problemi Lui ha grugnito, ha pensato a qualcosa per un paio di minuti e poi ha chiesto Un cuoco professionista, hai detto? Sto proprio cercando uno specialista di questo tipo Ho bisogno di sfamare due brigate di operai ogni giorno, possiamo fornirle un'auto Teplus per l'alloggio Naturalmente non ho esitato un secondo La giornata avvolgeva al termine L'autobus era in ritardo, anche solo per passare la notte sull'erba dei campi Presi il mio povero bagaglio e mi misi al caldo dell'auto, e non avevo paura di nulla Ero abituata al lavoro e amavo il mio mestiere La signora Emily interruppe il suo lungo racconto e versò a sé e a Lana un'altra tazza di tè Portò dalla cucina un piatto di dolci avanzati Lanciò un breve sguardo a Lana Non sei ancora stanco dei tuoi racconti, dottore? Cosa c'è, zia Emily? È raro che qualcuno mi parli così Intimamente, che mi confidi i suoi segreti Le sono molto grata per la sua franchezza Allora continuerò Da qui le cose erano molto più piacevoli I ragazzi del lavoro mi accolsero come una madre Avevano fame di asciutto e io ho preparato loro il borscht sul posto Ossa di cervello, cotolette, polenta di grano e anche la composta Il caposquadra non riusciva a sopportarlo Sei una cuoca deliziosa, Emily Non si vedeva una tale prelibatezza qui da molto tempo Allora, ragazzi, ecco come stanno le cose Siamo in 115 a lavorare È difficile sfamare così tanti senza una cucina ben attrezzata Quindi siamo in servizio tutti i giorni Chi tra gli uomini aiuterà con la legna per la stufa Chi andrà a prendere l'acqua, con altri lavori pesanti aiuterà la cuoca Ha un bambino in braccio, deve nutrirlo e prendersene cura Abbiate dunque una coscienza, fratelli Non sedetevi sul collo di questa giovane donna e non fatele del male né con le parole né con le azioni È così che mi sono trovato nel nostro cortile circa 30 anni fa, quando le fondamenta erano ancora in costruzione Victor, il mio caro Gold, è cresciuto qui Dopo aver terminato i lavori, rimasi con il signor Tyler e sua moglie nella casa dei proprietari Nigel era un bambino allora Oh, che tavolo di inaugurazione ho costruito per loro Gli ospiti si chiedevano dove avesse trovato un cuoco del genere In quella casa arrivò gente di tutti i tipi Persone di alto rango e con buone conoscenze Molte volte cercarono di attirarmi in altre case Come potevano farlo? Un angelo di bontà dal cielo mi è apparso una sera d'autunno alla fermata dell'autobus E io l'ho tradito? Kira è nata per me Tutti qui sono una famiglia per me Persino quella vuota di Gabriella con i suoi sogni sul signor Tyler non mi sembra un nemico Questa è la mia storia per te, signorina Forse ti aiuterà nel tuo lavoro La signorina Lana tornò nella sua stanza pensierosa Un tempo aveva piena fiducia nella vista Ricco significa avaro di Cuore Nella casa del signor Tyler vedeva un mondo diverso, pieno di calore, rispetto e desiderio di aiutarsi a vicenda nelle realtà difficili della vita La sua fervida convinzione di fare tutto il necessario per far stare Kira almeno un por meglio si consolidò ancora di più nella sua mente Dal giorno successivo, aumentò il carico terapeutico della ragazza Insistette perché venissero ripristinate le sedute di massaggio Decise che non erano dannosi per il corpo, che era stato spezzato dalla malattia, ma che al contrario aiutavano a tonificarlo Kira non rispondeva ancora al cambiamento di regime Solo l'apparizione del grosso cucciolo di Timmy nelle vicinanze sembrava illuminare un po' il suo viso La signorina Lana non si arrese Trascinò la carrozzina con la sua paziente per il parco, allattò, osservò le attività di Victor con il cane Lui prendeva sul serio l'incarico Il piccolo Timmy conosceva già i comandi seduto, sdraiato, camminato In casa c'erano solo due persone che erano i suoi padroni Kira, ai cui piedi passava tutto il suo tempo libero, e Victor, che lo nutriva e lo educava I giorni volavano e si avvicinavano le feste invernali preferite da tutti, Capodanno e Natale Lana, Gabby e la signora Emily si divertirono a decorare la già bella casa con nuove composizioni Ghirlande colorate e sculture di personaggi delle fiabe Victor installò alberi di Natale artificiali in tutte le stanze e le decorò ricamente con giocattoli costosi Tutti erano in vena di festeggiamenti Tre giorni prima di Capodanno, Lana ricevette una telefonata inaspettata da Alice, la sua unica amica intima Lana, stai per cadere Ho una grande notizia Mi sposerò in fretta e furia e partirò con il mio amato in Russia, nell'estremo oriente Lui è un ingegnere militare Vivremo vicino al sito di Lancio di Vostokni Lana si sentì subito triste Lei e Alice erano come sorelle, quasi da quando stavano a casa insieme e si sostenevano sempre a vicenda E ora stavano Per essere separate Nel frattempo, la sua amica continuava a parlare 30 dicembre, addio al nubilato in un locale notturno Il 2 gennaio abbiamo un volo di sola andata Non ci si può tirare indietro Ti ho fatto anche un regalo da Dio, un abito da sera Non è degno della tua bellezza, ma la valorizza magnificamente Se Alice mi vedesse ora, morirebbe dalle risate, pensò l'infermiera Aveva sentito i commenti di Gabi su di lei l'altro giorno La cameriera le aveva lanciato un'occhiata sdegnosa dopo cena e aveva tirato le somme La nostra terapeuta è una falena, un topo pallido Grigio Come si possono trovare sulla terra donne così senza volto? Non valgono nulla Gli uomini probabilmente non si avvicinano a uno spaventapasseri del genere La signorina Lana promissa ad Alice che avrebbe richiamato entro sera e andò nella stanza di Kira La ragazza, dopo la cena abbondante e la passeggiata della sera prima, dormiva già profondamente, distesa sui morbidi cuscini Lana riaggiustò la coperta e uscì nel corridoio La conversazione con il signor Tyler non sarebbe stata facile Quando bussò timidamente alla porta dell'ufficio, il padrone di casa rispose immediatamente Si accomodi Ho appena finito le pratiche della sera C'è qualche problema? Ho avuto un imprevisto La signora illustrò la situazione in breve Ma accetterò qualsiasi cosa lei decida Il fatto è che una persona a me cara sta per partire per un lungo periodo Non avremo la possibilità di vederci se non riuscirò ad andare all'appuntamento con il mio amico Non sono il direttore di una prigione, né il cognato di una prigione che ti tiene rinchiusa Signorina Lana, lei è in questa casa da un mese e mezzo ormai Kira sta bene, se non benissimo, senza un accenno di deterioramento Sono soddisfatto delle sue iniziative, delle sue tecniche e dei suoi esperimenti pratici Nessuna di esse è stata dannosa per la mia figlia malata Si assicuri di andare in città, le do 24 ore di tempo Il 31 Dicembre, dopo le 20, dovrai tornare tra queste mura Lana non uscì dal suo ufficio, ma volò via sulle ali Zia Emily stava armeggiando in cucina e l'infermiera di messa non pote fare a meno di condividere con lei la notizia Anche se sono brutta, tutti vogliono un pezzo di vacanza luminosa E poi, quando rivedrò la mia giovinezza? Sei brutta? La cuoca ricambiò il sorriso Risparmia le favole per gli altri Mia cara, non mi faccio ingannare dalle tue mascherate, la vecchia che ha vissuto in questo mondo So da tempo che nascondi la tua bellezza sotto un'immagine scialba, con gli occhiali Ma non preoccuparti Questo segreto rimane tra noi Se lo stai facendo, devi avere una buona ragione Questa storia del travestitismo non intralcerà la tua professione, ma i miei affari sì Lana si mise a correre, tornò di corsa in cucina e abbracciò calorosamente e dolcemente il maestro di cucina Conosco già due angeli della gentilezza in questa casa, zia Emily La tua sensibilità d'animo e la tua disponibilità a comprendere e ad accettare non hanno nulla da invidiare alla misericordia del tuo ospite Baciò con imbarazzo la sua guancia lussureggiante, profumata di vaniglia e mele Si affrettò a chiamare Alice per darle la notizia Considerando che Alice lavorava come stilista in uno degli atelier della città, l'abito per lana era lussuoso La morbida seta blu nevi accentuava ogni curva della figura aggraziata, mantenendo la scollatura rotonda e il taglio delle gambe al punto giusto Un filo di perle, un braccialetto e degli orecchini Quello che i suoi genitori adottivi le avevano regalato per il suo venticinquesimo compleanno Solo il tono e lo stile dell'abbigliamento Alice, che aveva vestito l'amica in una delle cabine dell'atelier, si bloccò per l'ammirazione Lana, sarai la dea della serata Con il tuo fidanzato, sono sicura che non si tirerà indietro Ti ha già visto nelle nostre foto insieme Il resto della popolazione maschile sarà ai tuoi piedi Vedrai Preferisco stare lontana da tutti quei segni di attenzione maschile indiscreta Lana rispose amaramente Ho avuto abbastanza esperienze sfortunate in questo campo Mi sembra che in questo mondo siano finiti cavalieri decenti, se non proprio cavalieri Almeno cavalieri adeguati Ho incontrato solo rappresentanti che mi hanno deluso a lungo Torno a casa nel mio appartamento Mi faccio i capelli, le unghie e tutto il resto Ci vediamo stasera al club Il locale, chiamato City Lights, accolse la corsa in taxi di lana con un allestimento straordinariamente colorato Pini pelosi vestiti di lanugine, luci colorate e orpelli che brillavano alla loro luce, e un pubblico La sua cara amica Alice si sbagliava Sulla pista da ballo ai tavoli del bar c'erano tante vere bellezze, degne di essere le regine della serata e della notte a venire In vista dell'ultimo dell'anno, tutti sembravano essersi sforzati di apparire favolosi Il pubblico era già rilassato con fontane di bevande calde Lana tirò un sospiro di sollievo Non c'era nessuno che si preoccupasse per lei Ma si rallegrò presto John, il suo primo e unico uomo, si stava divertendo con i suoi amici a uno dei tavoli della compagnia già pesantemente alticcia Alla vista di Lana che parlava serenamente con Alice e le altre ragazze, un luccicchio avido gli balenò negli occhi E quella ragazza divenne ancora più bella Allora lasciate uscire l'uccellino dalla gabbia Una fidanzata così sarebbe l'immagine di qualsiasi uomo di successo Pensò Dobbiamo portarla a letto anche stasera Decidendo di dare alla sua vittima almeno un drink per renderla più collaborativa, John tornò alla sua azienda Ma non perse di vista Lana Dopo circa un'ora, John esaurì la pazienza Decise di andare a dare una lezione alla ragazza umiliandola davanti ai suoi amici Alle spalle di Lana si presentò inaspettatamente con un saluto banale E vedo come sono le persone senza una guardia del corpo Vuoi che salvi il tuo splendido corpo dai desideri altrui? Lana si ritrasse da John per la sorpresa Ma non voleva rovinare la splendida serata di Alice Così si alzò rapidamente dal tavolo e condusse John lontano dal bar Che cosa vuoi? Io e te ci siamo lasciati molto tempo fa Lasciami in pace Ma Fermare l'uomo sfacciato non era così facile Non aveva intenzione di rinunciare alle sue intenzioni di passare un'altra notte con una donna così affascinante Non fare errori, Lana Beviamo un bel bicchiere di vino rosso per questo sfortunato incontro e lasciamoci come amici Non volevo farti arrabbiare Ho solo pensato che avresti potuto ricordare qualcosa della nostra piccola storia d'amore La donna decise prudentemente di non fare scandalo per una circostanza occasionale e seguì obedientemente l'uomo Al bancone John ordinò due bicchieri di un costoso vino d'uva proveniente da una collezione d'oltreoceano Si concesse una barretta di cioccolato e delle noccioline e mise un braccio intorno alla vita di Lana I calcoli dell'uomo erano banali Ora la sua vecchia conoscenza si sarebbe ubriacata e sarebbe diventata più accondiscendente Ma si sbagliava Lana traccannò un bicchiere di vino, senza nemmeno sentirne il sapore e guardò con sfida negli occhi il suo ex amante Ora sono libera da te Il rituale è stato rispettato John non era abituato a questo tipo di comportamento da parte delle giovani donne Non era mai stato rifiutato da nessuno Così le sussurrò all'orecchio Questa, mia cara, non è la fine del nostro appuntamento di Capodanno Non sperarci troppo Avrò un ufficio privato e tu sarai gentile con me Mi ricordo tutto Ci irisiamo Ci irisiamo Lana pensava con fastidio Perché quando arriva un uomo si riduce sempre a una cosa? Si guardò intorno impotente Non c'era nessuno, tranne un giovane uomo che sorseggiava tranquillamente un whisky al bar I loro occhi si incontrarono E cosa stava leggendo lo sconosciuto, ma scivolò imponente dalla sua sedia di velluto e si avvicinò a loro Questa donna è qui con me Mi sono allontanato dal tavolo solo per un momento E tu, giovanotto, hai subito approfittato della mia assenza? Gli occhi di John si allargarono per la sorpresa Che razza di uomo d'affari è lei? Da dove viene? In seguito Lana ricordò il Resto della storia come in un brutto sogno L'uomo che era venuto in suo aiuto, come un fiore all'occhiello, sollevò John da terra e gli diede una sonora pacca sulla schiena Ma John non era sollevato Prima di potersi ritirare dal campo di battaglia, afferrò il bicchiere di vino rosso non ancora terminato e spruzzò il liquido brillante direttamente sul vestito di lana Apparve un'enorme macchia rossa La donna impallidì, il suo inaspettato cavaliere la afferrò per un braccio e la trascinò in bagno Durante il tragitto disse qualcosa a proposito della necessità di lavare velocemente il panno Così non sarebbero rimaste tracce Lana era preoccupata per tutt'altro Nessuno aveva mai preso le sue difese in vita sua All'improvviso, in preda a un impulso, abbracciò l'uomo per il collo e lo trascinò verso l'uscita del locale Fermandosi solo un attimo vicino al guardaroba per raccogliere il cappotto Ho una macchina Borbottò il salvatore mentre usciva Ho un appuntamento con un vecchio amico, ma è in ritardo Ma Lana non lo ascoltò, trascinandolo lungo la fredda strada autunnale fino all'auto come in un sogno Non le importava del decoro, del suo vestito rovinato, della sorpresa del suo compagno che la seguiva obbediente C'era solo un pensiero che le frullava in testa Che bello che mi piaccia indossare l'ingerì di seta costosa, non ci sarà da vergognarsi Nel suo appartamento, dove aveva portato un cavaliere a caso dal club, si avventò sull'uomo come una tigre, come un predatore E lui non ha reagito Tutto quello che è successo tra loro è stato come un giardino dell'Eden Quanto sono stanca di essere educata e rispettabile Anche se si tratta di una sola volta Non so nemmeno il suo nome Anche se il mio amante occasionale era chiaramente bello e non stupido Era in qualche modo sicura di quest'ultimo, anche se non si erano detti una o due parole Al mattino si addormentarono insieme senza interrompere il loro abbraccio Ma Lana si svegliò da sola Senza nulla nel suo appartamento se non un letto sgualcito e un cuscino che odorava ancora di profumo maschile E nulla che le ricordasse la notte precedente Preparò il caffè, tirò fuori una scorta dalla sua scatola di scarpe per comprare a tutti gli abitanti della casa del signor Tyler i regali per l'anno nuovo Cominciava a pensare a tutte queste persone come a una famiglia E la notte era finita Tutte le magie di Capodanno finiscono E Babbo Natale, che l'aveva liberata dal cattivo John, se n'era andato Peccato Solo che non aveva dato la colazione allo straniero Davvero, non c'è niente in frigo E non c'è nemmeno una fetta di pane Ma lei sa come fare dei deliziosi pancacche Quindi c'è la farina e c'è il latte Un blocco di burro congelato Ma, lontano dai sogni, deve tornare ai suoi doveri Lana tornò al suo abito nativo, fece le valigie e chiamò Dennis L'autista del signor Tyler aveva promesso di portarla a fare un giro al negozio di souvenir e di tornare alla tenuta in tempo per il suo appuntamento Lana pensò improvvisamente che l'uomo con cui aveva trascorso quella notte magica era anche un angelo della gentilezza e della protezione Almeno per lei personalmente L'umore era duplice Tristezza per la separazione e per qualcosa di incompiuto E gioia per il fatto che nella sua vita piuttosto piacevole fossero accaduti tali fuochi d'artificio Lei e Dennis arrivarono a casa del signor Tyler alle otto in punto Sulla soglia, Lana fu trattenuta da Victor e Timmy Il giardiniere, imbarazzato, le consegnò un bucchè fatto di pigni e un fiocco di orpelli luccicanti Gabriela apparve sul portico Oggi è stata decorata, a quanto pare in onore del Capodanno, con tutti i colori dell'arcobaleno Mascara colorato, eyeliner, ombretto, rossetto Stranamente, il bel aspetto naturale della cameriera non era nemmeno rovinato da tutto ciò Cosa, Victor? I segni di attenzione sono severamente vietati qui Hai detto di amarmi Cosa, i sentimenti si sono Affievoliti Sei passato al nostro psicologo? Il modesto e tranquillo giardiniere ha improvvisamente deciso di reagire Non ho ancora avuto modo di darti il mio regalo semplice Ma non toccare la signorina Lana Non osare parlarle in modo irrispettoso Non vali neanche un'umbia di lei Gabriele rivolse lo sguardo sprezzante in direzione di Victor e rispose Chiudi il becco, spaventa Passeri Non sei tu quello che stavo aspettando Nigel arriverà presto Quell'uomo non è all'altezza di te Impara da lui com'è un uomo e come si comporta Per interrompere questo sgradevole monologo, Lana prese il braccio di Victor e lo condusse via Non ascoltare le sue vili parole, Victor Un uomo che è così bravo ad amare le piante e gli animali, è come se fosse una loro estensione su questa terra Alcuni di noi diventano angeli della gentilezza verso gli altri Guarisce e salva le anime perdute e infelici, e qualcuno diventa una sorta di pastore capo, una guida per la flora e la fauna La preserva dalla crudeltà delle persone Voi siete uno di questi angeli del bene di madre natura Siate orgogliosi del vostro status eccezionale Te lo sei guadagnato Lana lasciò Victor e salì le scale Il rumore di un motore si sentiva in lontananza, ma lei stava già correndo verso il suo reparto Il capodanno di tutti si avvicina e Kira non è ancora pronta Zia Emily aveva il suo bel da fare con la tavola Tutto scintillava e brillava nell'elegante sala La tavola traboccava di cibo e bevande Tutta la famiglia era vestita in modo elegante Persino la signorina Lana aveva cambiato il suo informe maglione con una camicetta bianca con pizzo e una gonna nera Solo lo scignone in testa e i buffi occhiali sul ponte del naso erano rimasti al loro posto Il signor Tyler si avvicinò al tavolo Sul grembiole della signora Emily c'erano piccoli fiocchi di orpelli dorati Gabriella indossava un provocante abito viola con una bassa scollatura e una profonda scollatura sulla schiena Così da quel piatto servì Sulla sua sedia Kira sedeva in modo piuttosto regolare in un morbido abito color viola Lana le acconciò i capelli La ragazza sembrava più fresca Ai suoi piedi, come al solito, giaceva il fedele guardiano Timmy Per le vacanze Victor lo aveva lavato appositamente con uno shampoo per cani Il suo pelo era lucido e a tratti persino argentato La signorina Lana aveva già distribuito i regali a tutti Piccole decorazioni natalizie raffiguranti angeli in varie vesti Tutti, se li si scuoteva un po', facevano un melodioso suono di campanelli Cominciamo a sederci a tavola alle 10 di sera Era ancora il momento di salutare l'anno vecchio Ringraziarlo per tutto il bene e chiedergli di portare con sé il male Il signor Tyler uscì per andare a prendere il figlio e presto si ritrovarono insieme nel salone Lana, a questo punto, stava sorseggiando un succo d'arancia Quando, insieme al suo ospite, apparve davanti alla sua eroina l'uomo con cui aveva trascorso la serata Riuscì persino a cogliere la fine della frase Mi dispiace padre, ho avuto un ritardo Ci sono stati degli imprevisti e poi ho anche dovuto riprogrammare un importante incontro di lavoro Che ieri non è andato a buon fine Lana si strozzò e sbatté le palpebre spaventata E poi accadde un miracolo davanti a tutti Non c'erano altre parole per definirlo Kira si alzò, tirò la mano verso il fratello, poi fece un gesto verso il pavimento e borbottò Nigel Tutti rimasero a bocca aperta Tutti saltarono su e giù per abbracciare Nigel Lana, in mezzo al trambusto, si allontanò silenziosamente dal tavolo Lasciava che la famiglia stesse insieme Senza di lei Nessuno avrebbe notato la sua assenza E aveva bisogno di riprendersi dalla sua improvvisa e sconvolgente scoperta L'uomo dei suoi sogni, il suo misterioso visitatore notturno e il figlio del signor Tyler erano un unico uomo Tremava per la confusione A tavola scoprirono subito che l'infermiera e il Medico di Kira, grazie ai quali si era verificato un evento così gioioso nella casa, erano andati da qualche parte Nigel fu mandato a cercarla Bussò con insistenza alla porta del medico Poi la aprì leggermente Ma nella stanza, a parte il rumore dell'acqua del bagno, non trovò nulla Decidendo che la donna poteva essere malata, l'uomo spinse con determinazione la porta del bagno Dal bagno, piegata in tre Lana stava lavando furiosamente una specie di panno, lasciando cadere le lacrime nell'acqua Al rumore, la porta si aprì e lei si voltò Non portava più i suoi orribili occhiali I capelli erano sciolti lungo la schiena E Nigel colse in lei qualcosa di molto familiare Poi volse lo sguardo alla vasca da bagno, dove giaceva un bellissimo abito di seta blu scuro Il puzzle si compose Lana, gridò Nigel stupito Tornai con champagne, provviste e un mazzo di fiori al suo appartamento, ma era vuoto Ero così frustrata che pensavo di aver perso la testa Pensavo di aver perso per sempre la mia fata della notte Lana andò coraggiosamente tra le sue braccia aperte Al diavolo tutti i principi, la decenza, le regole Quest'uomo le aveva stravolto l'anima ieri Le persone su questa terra si incontrano e si conoscono in modi diversi Lui la fa sentire bene Il resto non conta Nigel ha fatto uscire la ragazza per prima Mettiti qualcosa addosso in fretta Mancano solo 5 minuti al suono del campanello Ce la faremo Non c'era tempo per la solita mascherata La camicetta e la gonna di Lana erano tutte bagnate Si infilò in pochi secondi i jeans stretti Il maglione bianco, un maglione ruvido e filante, e non si raccolse i capelli, ma si limitò a sfiorare leggermente la sua chioma rigogliosa con una spazzola Arrivarono insieme al tavolo Le bollicine dello champagne suonavano nei loro bicchieri Mentre i rintocchi della campanella si facevano sentire Le creazioni culinarie di zia Emily attendevano tutti In tavola Persino Kira cercò di mettere una parvenza di sorriso sul suo volto Il signor Tyler non fece alcuna domanda al figlio Si limitò a lanciare un'occhiata ai giovani seduti accanto al tavolo La signora Emily pensò E con questo, presto ci saranno di nuovo voci di bambini in casa nostra Victor sorrese felice, accarezzando la schiena di Timmy Gabriella si morse le labbra nervosamente e masticò il suo panino al pesce rosso È così che anche io sto per farmi portare via Victor Ora, per poter rimanere in questa casa e ottenere un punto d'appoggio più solido Dovrei accettare le avance del giardiniere Non è un cattivo ragazzo, è gentile E piuttosto bello Il capodanno è stato davvero favoloso e magico Come doveva essere Tutti a tavola erano felici a modo loro Le tanto attese vacanze invernali volarono tra divertimento e relax Solo Lana lavorava instancabilmente con Kira per consolidare il suo successo Il primo giorno di lavoro, il signor Tyler si rese conto di essersi rilassato troppo Durante il fine settimana e decise di tornare a casa prima Scendendo silenziosamente lungo il morbido camminamento di Moquette Si avvicinò alla porta della camera della figlia e assistette ai nuovi trionfi di Kira Nigel, Timmy, Pia Emily, Victor Denise, Lana, Gabby Ripetendo obbedientemente a sillabe con Lana e Kira Il signor Tyler girò l'angolo del corridoio e pianse Un consiglio nominato dall'insegnante di Lana dieci giorni dopo fornì una sintesi rassicurante La malattia aveva ceduto La distruzione delle cellule e dei tessuti era rallentata Il periodo di remissione ha già superato tutti i limiti scientifici conosciuti Signor Tyler, le ho detto che Lana è un'eccellente specialista Nel nostro caso, aspettarsi una guarigione completa è un po' come sognare ad occhi aperti Ma sua figlia ha migliorato sensibilmente le sue condizioni generali e sta reagendo al mondo esterno Debolmente, un po', ma sta ricominciando a parlare Sai, stavo pensando che se il paziente vive circondato dagli angeli del bene, come mi ha descritto la mia allieva, ha buone possibilità di rimanere su questa terra per qualche tempo E lei lo avrà già reso il più felice possibile per lei Ne sono certo Sono passati sei mesi L'aereo che partiva la mattina per Praga era in ritardo a causa delle condizioni meteorologiche La Giovane coppia continuava a guardare il tabellone elettronico e a guardarsi l'un l'altro Nigel, e se non fossi andato in quella sfortunata discoteca? Mi avresti visto come un mostro e non mi avresti notato? Chiese la futura mamma con un pancione già evidente Smettila, rispose l'uomo, fissandole la fede al dito Attraverso tutti i tuoi travestimenti ho potuto vedere la tua anima inglese La tua intelligenza nel fare del bene non può essere nascosta Mi innamorerei di certo di questa pura magia La voce monotona e ferrea dell'annunciatore annunciò l'imbarco del loro volo La coppia si alzò e si diresse lentamente verso il punto d'imbarco Eccoci qui per concludere definitivamente tutti i miei affari a Praga Vedrete la bellissima città allo stesso tempo E torneremo in fretta dalle nostre famiglie Sai cosa mi ha detto Kira prima di partire? Nigel, Lana, Kira, Tima, in attesa Questo è l'enigma Non possiamo deluderli tutti Senza di noi, il cerchio degli angeli della bontà non sarebbe completo Una storia così piena di bontà e di incidenti felici Forse, cari amici, anche nella vostra vita qualche caso casuale è diventato il momento migliore o addirittura il momento chiave della vostra vita Condividetelo nei commenti